Si è svolto lo scorso 6 maggio presso la parrocchia del Sacro Cuore in Piazza Giotto ad Arezzo il terzo incontro del percorso di formazione missionaria che ha avuto per protagonista Adriano Sella, missionario del creato e dei nuovi stili di vita, promotore e coordinatore della rete interdiocesana Nuovi Stili di Vita. Abbiamo una grande missione da compiere non solo nel sud del mondo, quello che noi chiamavamo le missioni, ma anche qui in mezzo a noi e soprattutto Papa Francesco attraverso l'Evangelica audio e poi l'enciclica molto bella Laudato Si ci convoca tutti alla cura e alla custodia della casa comune che è il grande bene di Dio che è il creato e ci chiama anche a cambiare i nostri stili di vita per ben 35 volte nell'enciclica Laudato Si Papa Francesco ci dice che dobbiamo avere, promuovere nuovi stili di vita e allora mi hanno chiamato essendo un po' responsabile a livello nazionale di questa rete dei nuovi stili di vita per aiutare gli operatori dei centri missionari a percepire questa grande missione che abbiamo e soprattutto vedere nel concreto cosa possiamo fare per cambiare i nostri stili di vita anche a livello di comunità cristiane che devono sentire proprio questa missione. Il missionario Vicentino durante il corso dell'incontro ha sottolineato il valore che ogni nostro singolo gesto quotidiano può assumere nel processo di miglioramento della condizione di salute del nostro pianeta e delle persone che vi abitano. Il cambiamento parte dal basso, non dobbiamo pensare che deve partire dall'alto, dai governi, dalle istituzioni, eccetera, ma si parte dal basso per arrivare a cambiare le istituzioni. Il cambiamento è possibile dal basso quando lavoriamo il nostro quotidiano, dal mattino quando ci alziamo fino alla sera.